Quando sono arrivato nel 2005, la California, per quanto riguarda la cucina italiana, a mio avviso era un po', non tanto indietro, ma c'era un po' di confusione su quello che era l'italianità. Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up! Sono Ale e sono qui con Giallo. Oggi voliamo oltreoceano e andiamo dritti nella Silicon Valley, nello specifico a sud di San Francisco, a San Matteo. Con noi oggi avremo Andrea Giuliani, coproprietario ed executive chef del ristorante Pausa. È forse riduttivo chiamare Pausa un semplice ristorante, visto i numeri del personale, dei coperti, ma soprattutto dell'organizzazione che sta dietro questo genere di attività. Parlare con Andrea dico sempre che è come parlare con un CEO visionario di una startup unicorno in Silicon Valley e con un amico con cui farsi uno shot al bar di un benzinaio. Proprio con Andrea parleremo di ristorazione negli Stati Uniti, di controllo di filiera, di ricerca ed innovazione applicata alla sua attività, di staff training e di sogno americano. Io direi che abbiamo tantissima carne al fuoco e quindi direi di iniziare. Caro Andrea, benvenuto su Juice It Up! Ciao ragazzi, grazie, sono contento di essere qui con voi. Allora, intanto grazie mille per aver accettato il nostro invito. Noi chiediamo sempre una piccola presentazione del nostro ospite, quindi se puoi raccontarci quello che è stato il tuo percorso umano e professionale che ti ha portato in California e poi all'apertura di Pausa. Tutto parte a Jesolo. Sono cresciuto a Jesolo in provincia di Venezia. Sono un 74. L'estate tutti ovviamente facevano dei lavoretti a casa e per gioco ho iniziato a lavorare in cucina, nella pensione della mamma e del papà di uno dei miei amici storici e da lì ovviamente non ho più lasciato la cucina. Sono innamorato di questo lavoro e nel 2003 ho conosciuto la mia prima moglie in Germania, lei è americana, siamo sposati in Italia nel 2005 e con la nostra figlia siamo partiti per la Silicon Valley. Quindi il primo posto dove sono approdato negli Stati Uniti è stata la California e mi sono sentito a casa subito. Ho iniziato in un ristorante che si chiamava Spiedo, che era del padre del mio attuale socio. 12 anni dopo praticamente lo abbiamo rilevato. Da rilevato abbiamo cominciato questo concetto che si chiama Pausa, abbiamo cercato di mettere quello che era la cucina italiana in una chiave un po' diversa. Il nome Pausa, soprattutto qui nella Silicon Valley, è molto importante secondo me perché è un'area talmente stressata, quindi molto veloce e ogni tanto abbiamo bisogno di fare una pausa. Quindi noi diciamo sempre ai clienti We Play e You Pause. Siamo diventati il terzo ristorante quando abbiamo aperto una licenza per la produzione di tutti i salumi. Abbiamo la stanza della pasta, la chiamiamo la door room, dove praticamente produciamo tutte le paste, tutta la panificazione, la gelatteria, i dessert, mozzarella anche per quanto riguarda la pizza. Quindi è un concetto dinamico, ovviamente basato su tutto quello che è biologico. La California è molto forte, soprattutto nei vegetali e nella frutta biologica, molto avanti. Sustainable, è più che si può, insomma non possiamo dire al 100%, però ci proviamo e questo è com'è andata. Grazie a tutti. Se non vuoi perderti questo evento, dove purtroppo ci saranno posti limitati, entra in nostro gruppo Telegram, dove pubblicheremo in anticipo tutti i dettagli. Come al solito, trovate il link nella descrizione dell'episodio. Sarà una figata e non vediamo l'ora di vedervi. Ora vi lascio la puntata, buon ascolto. Andrea, ti volevo chiedere, prima di lanciarci un po' più nel dettaglio di quello che è il tuo progetto attuale di pausa, ci hai raccontato un po' quelli che sono stati i passaggi della tua carriera, ma invece dal punto di vista di come ti sei formato tu, come cuoco, hai avuto un po' dei maestri, dei corsi, dei percorsi che ti hanno portato a maturare l'idea di cucina che poi realizzi oggi dentro il tuo ristorante? Assolutamente. Dopo aver iniziato in questa pensione, come vi dicevo prima, sono prodato dall'ex presidente dell'associazione Cochi Veneti, Orano Romano all'epoca, era il 90-91, e Orano mi ha preso un po' sotto le sue ali. Con lui ho iniziato un po' a capire come era questo lavoro e quanti sacrifici dovevi fare, però quanto bello era lavorare in cucina e in essere nell'ambito della ristorazione. Da lì sono andato per un sacco di anni ai confini con l'Austria, a Sesto di Pusteria, dove ho lavorato all'hotel Monshine. Herman, lo chef, Enzo, uno chef proveniente dalla Basilicata, mi hanno insegnato tanto. Soprattutto anche con Enzo mi ha introdotto a quello che erano le paste fresche, la panificazione, da lì è partita questa cosa. Poi ho avuto forse la più brillante idea di iniziare subito a prendere in mano una cucina perché è stato molto difficile il primo anno. Però mi sono accorto che dovevo dare molto di più, quindi a fare dei corsi, ho cominciato ad essere un po' un autodidatta, quindi ovviamente leggo tanto, leggo tanti libri di cucina, mi piace nel web, ovviamente adesso abbiamo un sacco di possibilità, quindi ti metti sempre a fianco a altra gente, altri colleghi, vedi cosa fanno, cerchi di riprovare, esperimenti cose nuove, quindi il nostro è un percorso che non ha mai fine e questa forse è la cosa che mi piace di più. Sei arrivato poi in California e sicuramente ti sei trovato in un contesto che era diverso da quello italiano. Non sei il primo ristoratore e chef americano che intervistiamo ed è sempre interessante farci raccontare un po' quelle che sono le dimensioni, ma in generale proprio il mercato della ristorazione in America. e non è che ci potresti raccontare un po' com'è la California della ristorazione, magari focalizzandosi su quella che è l'area dove c'è il vostro ristorante, quali sono gli stili di cucina che vanno maggiormente, che cosa ricerca la clientela, quali sono le caratteristiche magari che contraddistinguono la ristorazione californiana rispetto ad altri modelli di ristorazione con cui hai lavorato. Quando sono arrivato nel 2005 la California, per quanto riguarda la cucina italiana, a mio avviso era un po', non tanto indietro, ma c'era un po' di confusione su quello che era l'italianità. Devo essere sincero, le cose sono cambiate molto negli ultimi 18 anni. Ci sono un sacco di americani che hanno, non solo italiani, ma un sacco di americani anche, che hanno cercato di far capire alla gente chi siamo, quindi la regionalità, quindi non questo mix and match per far contenti tutti, insomma. Qua si dice sempre che l'America un po' melti un po', un agglomerato di cose, tutti assieme. Invece secondo me era giusto, quella che è la mia visione, di far capire alla gente un attimo chi eravamo, chi siamo, come italiani. Ovviamente la clientela californiana è cresciuta molto, come penso si è cresciuta tutta la clientela un po' a livello mondiale anche, però abbiamo a che fare con gente che arriva da tutte le parti del mondo, Silicon Valley, come ben sapete, è uno dei fulcri del business mondiale. E quindi ti riscontri con gente che viaggia e quindi con gente che è abituata a mangiare in posti diversi. Ovviamente da San Matteo, dove siamo noi, sul di San Francisco, c'è anche una grossa clientela asiatica, la quale è innamorata ovviamente di quello che è italiano. Però ci sono un sacco di ristoranti anche nuovi, fusion, francesi ovviamente, la base francese è un po' la base americana, quindi c'è da riscontrarsi con un sacco di cucine. San Francisco è sicuramente una delle città più importanti che ci sono a livello mondiale e rispecchia anche questo un po'. Ovviamente la pandemia è stata un momento di non equilibrio un po' per tutti, diciamo, però stiamo tutti quanti venendole fuori a testa alta, quindi io credo sempre che bisogna sempre rimettersi in gioco. Però la frenesia da California è intensa e comunque ci sono opportunità, ti danno ancora opportunità, ti danno ancora veramente spazio per crescere, insomma, per andare avanti. Ci hai raccontato quello che è il contesto della ristorazione della California, dello specifico di San Francisco. Adesso invece ti vorrei chiedere qualcosa in più sul ristorante, su pausa, perché prima mentre lo raccontavi hai iniziato dicendo che fate i salumi, poi c'è la stanza della pasta, poi la gelateria e prima andai avanti dicevo cavolo ma questo non è un ristorante, è un'azienda. Quindi quello che ti vorrei chiedere è ci riesci a dare un po' qualche numero per inquadrare che cos'è pausa, quante persone avete all'interno dello staff, quanti coperti coprite ogni giorno, perché penso sia anche una cosa interessante per inquadrare il progetto e per capire che cosa vuol dire appunto tenere in piedi un business o un progetto di questo tipo. Sì, pausa all'interno a 90 posti e sedere, incluso lo chef table in cucina, dove facciamo anche cena e degustazione, 5 portate con 5 vini abbinati, dove io tra l'altro spiego il concetto e servo il tavolo spiegando il nostro concetto è quello che facciamo. Abbiamo un bar dove sediamo 16 persone, nel 2022 abbiamo servito 82.000 persone con 90 posti e sedere, quindi è un ristorante che gira almeno 250 persone a sera. Siamo una squadra di 59 persone, se devo essere sincero. Siamo tanti, soprattutto se penso a quando lavorare in Italia, i numeri dipendenti sono totalmente diversi. Ovviamente questo ci ha permesso, come ti dicevo prima, di poter produrre tutto, perché ovviamente quando lavori a casa e lavori tante volte con mamma, papà e altre due persone è un po' difficile prendersi cura di tutto dall'A alla Z. Questo comunque, come ti dicevo, ci ha permesso di partire da subito diventando uno dei primi ristoranti con la licenza per fare i salumi e dopo ad aprire quello che era la Dorum e a produrre tutte le paste, tutto il pane. Però ovviamente la nostra produzione parte di solito verso le 4 del mattino con la panificazione delle paste, la pasticceria ovviamente, il nostro salumiere, abbiamo un salumiere 5 giorni a settimana. Assieme a me ci sono altri 3 chef in cucina, un team in cucina che è composto circa da 24 persone in totale, non tutte allo stesso tempo ovviamente, perché 59 persone non sono tutte allo stesso tempo, però girano tra mezzogiorno e sera. Abbiamo 3 manager, 2 bartender con una squadra di bar, con un paio di hostess all'entrata, un sommelier, quindi è un po' una bella squadra, è una bella squadra. No, è incredibile l'umiltà con cui Andrea abbia raccontato di questo ristorante, perché io non penso esista un ristorante in Italia che abbia 59 collaboratori interni, cioè 59 persone. Guarda, me ne vengono in mente pochissimi. Ed è impressionante, ne avevamo già parlato con Andrea Mancin, che non so se conosci dell'arina pastificio di Brooklyn, che è incredibile la differenza tra un'attività di ristorazione italiana e un'attività di ristorazione negli Stati Uniti. Quindi complimenti, ma la cosa che io ti volevo chiedere era questo, perché ho fatto i compiti, sfogliando Google Maps, ho visto che pause è a 30 minuti esatti dall'headquarter di Apple, 20 minuti dall'headquarter di Google e 18 minuti da quello di me. Insomma, ne hai parlato diverse volte della Silicon Valley, però la ricerca, possiamo dire che è l'ossigeno della Silicon Valley, la ricerca, l'innovazione. Non posso non pensare che tu e il tuo staff, il tuo locale, non siate stati influenzati positivamente da questa atmosfera incredibile che si avverte, che si respira visitando la vostra zona. Allora, io quello che ti volevo chiedere è questo. Siccome voi praticamente avete in mano quasi tutto il controllo della filiera, e non è una cosa normale per un ristorante così grosso che fa quel numero di coperti, che ricerche e che studi avete fatto per concretizzare questo progetto? Cioè, lo studio sulle ricette per i salumi, sulla stagionatura, sugli impasti, so che tu sei molto attento all'impasto della pizza, per esempio, delle paste. Raccontaci un po' il percorso che avete fatto. Come hai detto tu, Vale, la ricerca, a Silicon Valley, è fondamentale, giusto? Ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa anche noi, quindi cercare sempre di essere un po' più avanti, ad avere cose nuove, prodotti nuovi. È una cosa che sicuramente devo tanto e anche a chi importa per noi i prodotti. E questa è una cosa importante. Quindi l'equipe di pausa non è solamente 50 persone che lavorano attorno a me, ma oltretutto sono gli importatori, quindi gente che importa i prodotti dall'Italia e presenta a noi cose nuove, cose che magari non si conoscono, e ti spingono a crescere, quindi a provare. Diciamo, quando sono partito lavorando a casa, ovviamente, come sappiamo tutti, a casa si fa slow food, giusto? Non si usano prodotti in Sicilia a Iesolo, e in Sicilia non si usano prodotti di Torino. Ma a Maria adesso sicuramente è cambiato un po' qualcosa, però noi siamo molto legati giustamente a quella che è la nostra regionalità. Io, devo essere sincero, ho imparato forse di più in 18 anni negli Stati Uniti di prodotti italiani di quando ero a casa. Perché? Perché sono stato esposto a 20 regioni, mentre prima ero esposto solamente ad una regione, ad una provincia dove lavoravo. Sembra una cosa molto strana da dire, perché magari in Italia tutti in questo momento stanno rizzando i capelli di cosa stai dicendo, Andrea. Però è proprio stato così, perché mi sono scontrato con questa ricerca e quindi con ovviamente questa passione che continua a aumentare e nello riscoprire cose nuove, cose che non avevo mai usato, ovviamente essendo Veneto, e che invece mi hanno dato l'opportunità di mettere in tavola qualcosa di completamente diverso. Ovviamente, devo anche dire, California a livello organico, a livello biologico, ma lì non ci sono ancora le centinaia di varietà di cose che noi abbiamo in ogni regione a casa, questo sicuramente, però i prodotti sono di veramente altissimo livello. Le carni, i pesci locali sono veramente di alto livello. Ed è bello anche collaborare con certe aziende, con certi produttori, che ti domandano che tipo di radicchio ti piacerebbe avere, che tipo di zucca. Cominci a giocare un po' con loro e loro sperimentano e tu sperimenti. Quindi quella non sono solamente 59 persone che lavorano, ma è tutto un circolo attorno a noi che ci fanno i ragazzi. Guarda, Andrea, io sono andato a vedermi un po' di foto del ristorante, di piatti, ed è impressionante, perché per quelli che sono i numeri che ci hai raccontato, sfido qualsiasi persona a provare a immaginarsi nella testa di un italiano abituato ai modelli di ristorazione in Italia, un ristorante soltanto basandosi sui numeri che ci hai detto. E chiunque può pensare alla pizzeria, quella grossa vicino casa, dentro il centro sportivo, quella che riesce a mettere seduto a un sacco di gente, con tantissimo personale. Invece poi apri le foto e vedi il livello di qualità che hai riuscito a mettere nei piatti, la cura del locale. Alessandro mi girava le foto del menù dicendo che è incredibile che tutte quante queste cose loro le facciano in casa. E secondo me questa qui è veramente la magia e il tratto unico di pausa che siete riusciti a creare e che ci fa veramente piacere essere in grado di raccontare in questo episodio. Mi fa piacere e orgoglio. Quando arrivi, in generale quando vai a vivere in un paese che non è il tuo, ci si deve abituare in certe cose. C'è una cosa fondamentale per me che è mai dimenticarsi da dove vieni. Questa non importa quanto successo tu possa avere, mai dimenticarsi da dove vieni. Quindi con degli amici a Jesolo ogni tanto si ride e dice non dimenticarti che ancora sotto le unghie c'è la terra. E sono orgoglioso di avere sotto le unghie ancora la terra. Quando però arrivi in un paese diverso, nel mio caso, negli Stati Uniti e ovviamente in California, aprire un business non è come aprirlo a casa. E questa è la prima cosa che devi capire. C'è un sacco di gente che continua a fare anche qui business in maniera ciocciara, diciamo. E per me è una cosa sbagliata perché la California e gli Stati Uniti in generale ti possono dare un'opportunità che è grandissima e bisogna tenersi a quelle che sono le regole americane. Come gestiscono i numeri gli americani, come si siede a tavola a parlare di business, a parlare di soldi, a parlare di investimenti. Pausa ovviamente è stato un investimento grossissimo che a casa quando si parla di certi numeri magari la gente apre gli occhi. Però con un piano, quindi con un business plan, con dei forecaster, con dei numeri ben precisi. Alla fine della giornata, per quanta passione e per quanto ci piace il nostro lavoro, dobbiamo anche guardare la parte economica. Quindi quando apriamo il cassetto alla sera, se i numeri non tornano, stiamo sbagliando qualcosa. Quindi secondo me questa è una cosa estremamente importante. È quello che è stato un po' il mio percorso. Quindi cercare di far capire che siamo noi, come italiani, in una chiave un po' diversa. Però allo stesso tempo prendere in mano un ristorante, un progetto, con dei numeri ben precisi, con un'idea ben precisa e gestirlo in una maniera ben precisa. Andrea, devo dire che tra questa intervista e quella che citava prima Alessandro ad Andrea Mancini sto trovando molte similitudini anche proprio nella maniera in cui parlate, nell'orgoglio che avete di essere italiani e di portare la cucina italiana in America. E proprio per questo mi è venuta una curiosità. In Italia spesso, anche quando si entra in ristoranti con quattro persone, trovarle tutte e quattro preparate è complicato. Invece in America spesso capita che si entra in questi ristoranti come l'Arena di Andrea o Datea Pausa e tutti i dipendenti, tutti quelli oltre 50 dipendenti di cui ci raccontavi prima sono in grado di parlare di vino, di raccontare il piatto. Poi col fatto che avete la produzione magari sono in grado di spiegarti quel salume come è stato prodotto, quel gelato, che ingredienti c'ha. Quanto è importante la parte di formazione dello staff? Quanto voi investite in staff training? Che differenza hai notato che c'è tra il fare staff training in Italia rispetto all'America? Beh, guarda, è proprio centrato una delle cose che fa parte proprio della gestione di Pausa, ma della gestione in generale un po' che è la ristorazione negli Stati Uniti. Ovviamente, se devo pensare a quello che era casa prima e quello che è adesso in California, c'è una grossa differenza che l'abbiamo detto è la quantità di gente che può lavorare con te. Ed è difficile a volte avere un livello di attenzione a quello che è il servizio, a casa, verso qui. Ovviamente la formazione è una cosa estremamente importante sia a casa che qua, però qui è un po' forse più comune da una parte perché ovviamente hai più tempo e hai forse anche più personale. Però è una cosa estremamente importante. Pausa, tutti i pomeriggi prima di iniziare il servizio c'è un line-up con il personale di sala dai 30 ai 40 minuti dove si parla di vino, dove si parla di servizio, di cibo, dove si presentano i piatti nuovi, si parla di ingredienti, di allergie, di problemi di servizio di sala, di chi ha prenotato questa sera, se abbiamo delle cene importanti, se abbiamo dei banchetti, se abbiamo... Insomma, si parla un po' di questa mezz'ora e tutta la struttura. Poi ovviamente il venerdì e il sabato cerchiamo di spendere un'ora, un'ora e un quarto invece, dove invitiamo produttori di vino, importatori di vino, di liquori, di prodotti in generale di cucina anche e dove lì ovviamente si va un po' più sul tecnico, quindi si va a parlare dell'ambrusco, si va a parlare della verdecca, si va a parlare del riso venere, si va a parlare del tartufo, tutti quelli che sono un po' i prodotti italiani. Questa è una cosa estremamente importante perché in primis dobbiamo essere noi come manager che diamo l'esempio a sapere cosa portiamo in tavola, cosa portiamo al cliente. Ovviamente è noi essere in grado di trasmettere ai nostri dipendenti quello di cui dobbiamo parlare e ovviamente di trasportare quello che è il nostro concetto, la nostra emozione in quel momento a voi consumatori. Ovviamente tante volte ti trovi davanti anche a gente che magari non conosce i prodotti leggendo il menù. Diventa molto difficile mettere cicerchie nel menù dove non c'è tradizione in inglese come gli spieghi che tipo di legume è la cicerchia. Sorry, how do you say cicerchia? Mi immagino mi immagino la scena. Quindi è lì che diventa anche un po' un po' difficile. Però giornalmente senza mai senza mai mollare bisogna sempre andare avanti quindi l'informazione è la cosa estremamente estremamente importante anche perché comunque ti dà possibilità di chiudere un'esperienza per un cliente in maniera totalmente diversa. Andrea, un'altra curiosità che ci avevo proprio legata a questi numeri di personale che ci hai raccontato che avete è quella un po' della people retention diciamo perché comunque immagino che quello della California e nello specifico della ristorazione in California sia un mercato estremamente competitivo e quindi magari anche tenersi il personale a lungo può essere complicato. Quello che ti volevo chiedere è questo investire in staff training che da molti potrebbe essere visto come comunque sì un investimento ma anche un costo anche importante perché comunque dedicate tempo dedicate risorse e così via è un qualcosa che poi paga nel tenersi il personale più a lungo comunque quello della California appunto è un mercato così tanto competitivo che si accetta il fatto che ci sia turnover che ogni tot di tempo il personale di sala cambia e quindi deve essere riformato ed è un circolo insomma che va avanti all'infinito beh hai detto bene il turnover in ristorazione c'è sempre del turnover questo sicuramente la formazione di cui parlavamo prima come ho detto è estremamente importante a volte però ti rendi conto che spendi veramente tanto tempo e tanta energia e dopo magari il dipendente per motivi X può anche cambiare giusto un po' ti butta giù di morale perché dicevo ho speso talmente tanto per cercare però mentre l'altra parte ti dà più fiducia quindi dici ok ho un dipendente che crede nel nostro concetto che vuole restare con noi e che ci può dare una continuità quindi la cosa più difficile penso che sia avere la continuità perché se dovessimo cambiare sempre comunque molto personale diventerebbe veramente molto molto difficile restare sempre allo stesso livello 2020 la pandemia è stata veramente un momento dove a parte aver chiuso però nel momento in cui siamo ritornati e siamo ripartiti solamente con il mangiare to go lì però abbiamo avuto la possibilità da una parte anche di scremare un po' cambiare della gente cambiare delle cose che nel 2019 magari non eravamo in grado di fare magari avevamo difficoltà di fare ovviamente c'è stato un momento molto difficile nel trovare gente che volesse lavorare ovviamente data anche tutti questi sussidi giusti da una parte però esagerati da un'altra che arrivano dal governo e adesso ovviamente ci rendiamo conto che è difficile lo stesso trovare della gente siamo in un'area estremamente competitiva i costi di vita si sono alzati veramente in maniera esponenziale i prodotti importati si sono alzati i prezzi si sono alzati veramente in maniera esponenziale i trasporti un po' tutto quindi con il corso della vita c'è stato un sacco di gente anche che si è spostata alla California però diciamo che in cucina il core dei manager in cucina di pausa sono cambiati sono cambiati in meglio anche io penso sempre che per fare un qualcosa oggi devo sempre guardare quello che ho fatto ieri giusto il passato e questo mi spinge sempre diciamo però abbiamo trovato un equilibrio in questo momento non voglio parlare troppo perché poi succede qualcosa però con orgoglio posso dire che siamo contenti dell'organico che abbiamo in questo momento ovviamente c'è gente nuova gente che però sta dimostrando che ha voglia di imparare trovare gente nel nostro mestiere nel nostro settore che non è sempre facile Andre non possiamo non chiedertelo cioè addirittura tu sei anche nella Silicon Valley quindi è impossibile non sognare lì i progetti si fanno in grande allora sogno americano tanti sono i ragazzi che desiderano spostarsi negli States che hanno l'ambizione il sogno di aprire un locale negli Stati Uniti allora visto che tu ci sei passato e devo dire che hai avuto un grande successo puoi dare qualche consiglio pratico a chi sogna di aprire un ristorante negli Stati Uniti ah sì beh intanto intanto devo dire una cosa mai dimenticarsi come ho detto prima di chi siamo e da dove veniamo quindi chi va all'estero non è meglio o peggio di chi resta a casa mettiamocelo subito in testa questa cosa fa un passo diverso e ovviamente si scontra con una realtà diversa quindi potremmo andare avanti un altro paio di ore a raccontarvi come sono stati i primi anni di Andrea negli Stati Uniti non sono stati facili assolutamente ovviamente anche per la lingua lo scontro in questa cultura che è completamente diversa da quella da cui arrivavo io ovviamente però c'è tanto da fare qui quindi se qualcuno a casa ha oggi un'idea ben precisa e vorrebbe aprire qualcosa anche qui negli Stati Uniti o qui in California c'è posto c'è posto per tutti l'importante come dicevo prima è cercare di fare un business seguendo quelle che sono le regole del business americano cosa estremamente importante ovviamente guardatevi sempre attorno perché anche nel mio percorso ovviamente ho conosciuto gente che magari non valeva la pena conoscere ma tanti altri a cui devo dire grazie perché se sono arrivato in questo momento dove siamo arrivati lo devo non solamente a me stesso ma lo devo a tutte le persone che mi hanno circondato the American dream it's here quindi c'è ancora c'è ancora e c'è tanto da fare poi i giovani oggi sono molto avanti io ho una figlia di 18 anni che è all'università Los Angeles continua a insultarmi perché non sono presente in Instagram ancora ma loro sono veramente avanti bisogna guardare indietro come dicevo prima per se fare qualcosa di oggi ma però bisogna guardare anche avanti perché il futuro è lì c'è tanto da fare ancora però se c'è qualcuno uguale in California venite è bello si sta bene c'è da lavorare duro però the American dream is here is still here Andrea abbiamo parlato del sogno americano adesso parliamo un po' dei sogni dei sogni tuoi che in un certo senso sei riuscito a realizzarlo quello che può essere l'American dream di realizzarsi non solo economicamente ma anche in quelli che sono gli obiettivi di vita diciamo che già ciò che oggi pausa è sicuramente un progetto importante estremamente affascinante che ci hai raccontato però quali sono un po' i tuoi e del ristorante progetti futuri un po' i sogni che hai nel cassetto e quei quei sassolini che ti vorresti ancora togliere dalla scarpa dovrei farti parlare con mia moglie allora perché mia moglie mi dice sempre ma non ti basta non va bene ma perché vuoi andare cosa vuoi fare ancora io sono sempre come si dice in Veneto a noi una bronza coerta ma una braccia coperta non mi piace star fermo è una cosa che non mi va ovviamente pausa è stato un grosso progetto e sta andando bene quindi siamo siamo contenti però ho un'altra cosa in mente che sto lavorandoci sopra che è aprire un concetto di pizza un po' un po' diverso e ci stiamo 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 bollendo la pasta in questo momento spero spero di riuscire a partire se forse per la fine dell'anno vediamo vediamo come va sto per andare a Palma di Mallorca alla fine di gennaio a fare un corso con la scuola di pizza quindi un master una masterclass quindi sempre di imparare sempre a c'è ancora ci sono ancora un paio di sassolini che vogliamo fare poi il mio il mio sogno nel cassetto da sempre se il mio amico Stefano è in linea adesso e ci sente è di aprire un chiosco dove farò solamente bolle e crudo con un pareo e basta e un paio di ciabatte e quello è il mio sogno devo morire in una spiaggia così buongiorno sicuramente verrà l'inaugurazione te lo prometto sarai su sicuramente invitato ascolta amico mio siamo arrivati alla chiusura noi abbiamo una rubrica per concludere che si chiama piccola pasticceria come in un grande ristorante la piccola pasticceria non può mancare che cos'è per noi la piccola pasticceria è un consiglio che chiediamo al nostro ospite su qualcosa che nella vita ti ha ispirato può essere un libro può essere un podcast può essere un film un personaggio un album un brano musicale un ristorante che nella vita ti ha cambiato la vita stessa raccontaci qualcosa che può ispirare anche noi e che ti sta ascoltando come è fatto con te su due piedi così ti dico se parliamo di musica Vasco sono cresciuto con Vasco Vivere secondo me è una delle canzoni le canzoni più belle che ha fatto Vasco è una delle canzoni che mi piacciono di più e quella è un po' sperare di star meglio quindi quando parti arrivi in un posto nuovo devi pensare sempre devi vivere anche nei momenti più difficili testa bassa e lavorare per me quella è stata una cosa una canzone un momento di ispirazione invece a livello se devo pensare all'America dove sono penso a C'era una volta in America Once Upon a Time in America è un film che ho riguardato centinaia di volte forse e mi piace il filo di quel film perché si parla di questo gruppo di amici io mi rispecchio questa cosa perché ovviamente ho avuto un passato a casa un po' un po' così però dove l'amico per me in generale è sempre stata una cosa molto importante il gruppo è quello che fa la differenza non è un singolo e quindi la gente che è attorno gli amici che è attorno devono essere sempre valorizzati e quello è un po' quello è stato il filone del film ovviamente la regia di Sergio Leone musiche di Ennio Morricone Robert De Niro più di questo cosa vuoi in quel film le hanno messe tutte però è è l'integrità che deve avere una persona in qualsiasi cosa faccia ovviamente non parliamo di gangster in questo momento però l'integrità di una persona questa è una cosa molto importante e che per me è estremamente importante quindi l'integrità di una persona è il valorizzare chi hai a fianco queste sono le due cose vivere e valorizzare chi hai a fianco un poeta io ragazzi ve l'avevo detto nell'introduzione che parlare come Andrea era come parlare con un CEO di una startup della Silicon Valley e con un amico con cui farsi uno shot al bar del benzinaio penso di avervelo raccontato al meglio ma lui si è raccontato al meglio quindi Andrea grazie di cuore sono sicuro ci vedremo presto in uno dei miei prossimi viaggi e un caro abbraccio insomma ragazzi grazie mille è stato veramente un piacere e spero di vedervi presto a pausa mai mollare juice it up forever grazie mille Andrea un abbraccio in bocca al lupo grazie a voi cari un abbraccio hai ascoltato juice it up per altri contenuti di juice ci trovi su instagram e sul nostro sito thisisjuice.net grazie mille grazie mille